La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento cautelare che ha portato un imprenditore partenopeo, residente a Roma, ed un dottore commercialista napoletano agli arresti domiciliari. L'indagine, condotta dalla terza sessione criminalità economica della Procura di Napoli, ha ad oggetto una pluralità di condotte di falso in bilancio e bancarotta fraudolente in relazione alla società immobiliare Campalto Real Estate SRL, dichiarata fallita il 4 gennaio 2019 dal Tribunale di Napoli. In base alla ricostruzione degli investigatori, la Campalto Real Estate, costruita nel 2007 con sede a Montalcino, aveva come scopo la costruzione e la vendita di immobili nella provincia di Siena. Nell'estate del 2010, la società iniziava a maturare i primi debiti nei confronti dell'istituto di credito che aveva concesso consistenti finanziamenti, nonché nei confronti dell'erario, per poi versare in un vero e proprio stato di decozione a partire dal luglio del 2011. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, nonostante l'azzeramento del capitale sociale, i due indagati deliberatamente evitavano di avviare la fase di liquidazione della società, causando in questo modo un notevole incremento delle posizioni debitorie e delle perdite. I indagati si decidevano a sciogliere e porre in liquidazione la società solo nell'ottobre del 2018, ovvero a soli tre mesi prima della dichiarazione di fallimento. Veniva poi proposto reclamo presso la Corte d'Appello di Napoli. In quella sede sono stati prodotti i bilanci degli ultimi tre anni, tutti oggetto di una grave condotta di falsificazione diretta a dimostrare il mancato superamento delle cosiddette soie di fallibilità. Le indagini hanno consentito di riscontrare quanto già rilevato dalla Corte d'Appello di Napoli, che aveva rilevato l'assoluta inattendibilità dei bilanci.